Siamo presso la presidenza di Chima Ambiente AMIU, una serie di puntate di trasmissioni dello sportello del cittadino che mirano a una collaborazione tra cittadino e azienda in modo particolare, ma non solo per la raccolta differenziata. Ho al mio fianco il Presidente Giampiero, l'Avvocato Giampiero Mancarelli. Come dire, prima di parlare di cose serie, mi consenta Presidente una battuta, una bella visione questa, un bel panorama, c'è il compianto Diego Armando Maradona, io però da juventino sportivamente non lo gradisco tanto, però rispettiamo la memoria di un grande campione. Beh, diciamo direttore, sapevo che mi veniva a trovare e quindi ho ritenuto opportuno da buon sport. Ho chiesto la rimozione, però il Presidente ha detto tutto, ma la foto rimane. Allora faremo l'intervista con Dieghito, ora al di là delle battute bisogna anche scherzare, ridere e partire dal presupposto che il calcio unisce e non divide, questo è importante. Ora parliamo di cose serie. Allora, Presidente, una raccolta differenziata che è partita, ha avuto certamente le sue difficoltà, ci sono le luci, ci sono le ombre. Nel breve e medio periodo quali le novità in gestazione? Beh, la raccolta punti che consentirà quindi a coloro i quali avranno la voglia di aiutarci con la raccolta del vetro, dell'alluminio piuttosto che della plastica e quindi potranno portarle al CCL e alle isole ecologiche e avere dei punti che consentiranno quindi alla fine di raggiungere 100 punti e quindi 10 euro di ricarica per il buono spesa. Queste sono alcune delle azioni che stiamo mettendo in campo, sapendo che è necessario entrare anche nelle scuole, nelle parrocchie, in tutte le attività sociali, affinché insomma cambi proprio la mentalità. A Taranto i risultati sono lusinghieri, possiamo fare meglio di più, siamo certi che la collaborazione dei cittadini anche con Rete a raccolta, che è l'insieme delle associazioni ambientaliste, cito alcune, Reteic, Leggambiente, Siamo Taranto, Proloco Capo San Vito, Plastica Qua e così parlo Zarabusta, sono importanti perché ci stanno dando veramente le giornate ecologiche, nei prossimi giorni avremo anche un impegno importante con la Capitaneria di Porto, anche per la pulizia di alcuni arenili che insomma sono ormai ricettacolo di rifiuti.